Il giornalismo ambientale va verso la competenza, verso le competenze, va verso la multidisciplinarità, va verso la conoscenza. Il compito del giornalismo ambientale è quello di conoscere e di saperlo comunicare. Non è con la semplificazione, né con il slogan, con le frasi fattiche che si può fare come deve essere ambientale. Ancora maggiormente nel campo ambientale la competenza, la professionalità e la conoscenza dei temi è fondamentale per poter raccontare l'ambiente in una maniera opportuna.